non vi fidate di quelli che fanno promesse o di quelli che aumentano la spesa pubblica con facilità per avere il consenso degli elettori ne siete le prime vittime perché siccome contate poco non fate parte ancora del sistema produttivo siete quelli che sono più penalizzati in termini di scuola di riforma della scuola ma anche in termini di possibilità di lavoro future buonasera buonasera a voi tutti che ci seguite oggi 16 giugno 2020 un altro collegamento molto importante d'eccezione con Gianfranco Spadaccia e con noi su Liberi TV come sempre il nostro consulente storico-culturale Pier Paolo Segneri questo è uno degli appuntamenti che facciamo di approfondimento storico e ricostruzione un po' incentrati su un anno importante della storia dell'Italia non tanto antica il 1992 siamo in collegamento con Gianfranco Spadaccia che più di tanto non necessita presentazioni però lo ricordiamo lui è già stato segretario del Partito Radicale tra il 67 e il 68 e poi se non sbaglio nel 74 nel 76 è stato parlamentare quindi parlamentare alla Camera deputato e quindi anche senatore nella legislatura l'ottava, la nona, la decima di recente se non sbaglio è stato anche presidente di più Europa nel 2019 e se non erro poi ci dirà lui uno dei primi arrestati per disobbedienza civile nel 75 una disobbedienza civile organizzata da Arcisa contro il dirieto di aborto insieme arrestati insieme a Dele Faccio Emma Bonino e Giorgio Conciani all'epoca e ricordiamo anche fondatore dell'associazione Luca Coscioni una rapidissima, brevissima presentazione diciamo di Gianfranco Spadaccia poi lui potrà completare se vorrà parliamo del 92 che cercando di dare un occhio come abbiamo fatto con gli altri appuntamenti ricordiamolo con Bobo Craxi con Martelli e con Vincenzo Scotti contestualizzando un po' gli avvenimenti italiani anche nell'ambito un po' più globale perché è un periodo in cui accadono nel mondo delle cose importanti si completa o meglio procede più che si completa la dissoluzione dell'impero sovietico sostanzialmente all'inizio del 92 a gennaio la Russia dichiara la propria indipendenza dall'Unione Sovietica che viene sciolta e questo è un momento molto importante procede alla dissoluzione della Jugoslavia poi sappiamo tutte quante le guerre che vi sono state nell'ambito nell'ambiente Gianfranco Spadaccia che è un giornalista ricordo che il 14 marzo del 92 chiude la Pravda l'organo ufficiale del PUS un'altra pietra miliare dell'informazione politica dell'Europa dell'Est organo ufficiale e in Italia ovviamente abbiamo ricordato ci sono degli importanti momenti drammatici partiamo a marzo con la morte con l'uccisione di Salvo Lima che è il referente della democrazia cristiana in Sicilia la strage di Capaci il 23 maggio e quella di Via D'Amelio dove viene ucciso Paolo Borsellino a luglio viene eletto Scalforo capo dello Stato e parte l'inchiesta Mani Pulite con l'arresto di Mario Chiesa un socialista che era che dirigeva il Pio Albergo Tribuzio Mani Pulite e Tangentopoli che trasformerà il panorama politico partitico soprattutto dell'Italia Caxi riceve un avviso di garanzia in chiusura dell'anno Sergio Moroni si suicida dopo aver ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito di questa inchiesta e vorrei chiudere con una piccola cosa che avviene negli Stati Uniti che ci riporta un po' all'attualità un po' per dire che certe cose cambiano ma certe cose no il 29 aprile negli Stati Uniti a Los Angeles viene pestato dalla polizia un afroamericano Rodney King e c'è un video che appunto immortale a questi momenti e scoppia una rivolta dalla quale escono uccise 60 persone ed è una cosa drammaticamente attuale io lascerei a questo punto dopo questa rapidissima contestualizzazione un po' geoglobale se così possiamo dire la parola a Pierpaolo Segneri vi ringrazio cerchiamo di fare una cosa dinamica cercando di stare nei tempi a te la parola Pierpaolo grazie Gianni un saluto a tutti i telespettatori di Libri.tv beh diciamo che la cosa da sottolineare subito e abbiamo scelto questo anno il 1992 perché proprio in quell'anno noi vediamo arrivare al pettine una serie di nodi che ci appartengono che fanno parte ancora oggi 2020 del dibattito politico in questa fase e ricordo che nel giugno del 1992 visto che siamo nel mese di giugno si insedia anche il primo governo amato Giuliano Amato ebbene fu il governo che dovette affrontare veramente per la prima volta la crisi politica che attraversa oltre alle varie questioni che tu hai elencato prima il nostro paese in particolar modo a causa del debito pubblico tutti ricorderanno le misure di rigore di quel governo del governo amato per cercare di attenuare una situazione che era catastrofica e poteva portare il paese diciamo a fallimento e quel governo riuscì ad arginare una situazione critica economicamente molto insidiosa che stava diciamo mettendo in ginocchio il paese l'avrebbe messo anche rispetto alla costruzione europea e quindi tutti quei nodi il tema della giustizia il tema politico dei partiti di cultura politica il tema della legge elettorale il tema della crisi economica il sistema internazionale tutto quello che attraversa il 1992 noi lo ritroviamo ancora oggi nel dibattito ancora più attuale di allora e per questo insomma voglio sempre ricordare che quando interveniamo in queste occasioni la nostra voce è rivolta soprattutto agli studenti ai ragazzi del liceo delle scuole superiori e agli universitari che non erano ancora nati nel 1992 ma credo che se vogliono capire meglio la realtà in cui viviamo oggi la situazione in cui ci troviamo oggi è necessario indispensabile ripartire andando alla radice del problema e noi abbiamo individuato a livello metaforico simbolico il 1992 come questa radice allora volevo chiedere a Gianfranco anzitutto secondo te perché quali furono le cause che portarono così tutti gli elementi nel 92 a convergere tutti insieme a livello nazionale e internazionale verso un qualcosa che evidentemente creò una rottura di sistema o comunque una metamorfosi del sistema ci saranno state delle cause tu che idea ti sei fatta la prima causa vera la vera causa fu il fatto che quando nella fine degli anni 80 era chiaro che stava implodendo il sistema comunista e quindi finiva l'era della contrapposizione dei due blocchi Est e Ovec mutava anche la situazione politica italiana era costretta a mutare perché finiva un contesto internazionale che l'aveva in qualche modo caratterizzata i tre grandi partiti della politica italiana la democrazia cristiana il partito comunista il partito socialista avrebbero innanzitutto dovuto riformare se stessi e poi concordi o in contrasto fra loro si sarebbero dovuti preoccupare di cambiare il sistema politico italiano di riformare l'ordinamento politico italiano e questo non accadde la democrazia cristiana continuò sulla sua strada fondamentalmente con la politica dei due forni pensando di poter alternare alleanze col PSI e con i partiti laici da una parte o col partito comunista dall'altra il partito comunista fino al 1991 rispose con occhetto no alla richiesta di Napolitano e dei miglioristi di riporre in questione la questione di riproporsi la questione socialista e la questione del superamento della scissione di riforma dissero che era questione nominalistica poi proprio per una nemesi strana che spesso accade in politica accade che quelli che avevano accusato Napolitano di minimalismo di nominalismo peccarono loro stessi di nominalismo e da quel momento dopo l'annuncio della caduta dell'implosione dell'impero sovietico modificarono solo i nomi del loro partito ma non modificarono la sostanza delle cose la cultura che c'era alla base di quel partito purtroppo noi abbiamo dovuto fare i conti di questo abbiamo tentato di sostituirci i tre grandi partiti prendendo delle iniziative soprattutto attraverso il referendum il referendum elettorale sull'unio nominale era la via maestra per tentare di passare dalla democrazia frazionata e immobile del proporzionalismo partitocratico alla politica dell'alternanza democratica lo facevamo una prima volta con un referendum proponendo un referendum che fu bocciato negli anni 90 dalla Corte Costituzionale il referendum consisteva nel chiedere che fosse abolita quella parte della legge elettorale del Senato che prevedeva che potesse scattare l'unio nominale solo nel caso che uno dei candidati raggiungesse il 75% poi invece questo falso uninominale si traduceva in un complesso e barocco sistema proporzionalistico anche per il Senato purtroppo però rimaneva tronca una frase e la Corte Costituzionale invece di risolvere il problema con una sentenza interpretativa preferì bocciare la richiesta di referendum la riproponemmo nel 92 dopo essere riusciti grazie alla triangolazione con Barbera con altri costituzionalisti con Unita ma anche con il ministro con Mancino col ministro dell'interno e col ministro dell'interno Scotti riuscimo a modificare il testo della legge e quindi a togliere questa giustificazione formale che è la Corte Costituzionale il secondo referendum del 91 su cui raccogliemo le firme fu accolto e accettato e ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale perché scusa ha già fatto nel 91 c'è il referendum sulla preferenza unica e poi nel 93 invece noi avevamo presentato tre referendum due per l'unio nominale che furono bocciati dalla Corte Costituzionale e poi ne rimase un terzo che era sulla preferenza unica su questo come radicali ci dividemmo Pannella votò no come Craxi Craxi addirittura vi invitò a non andare a casa però evidentemente Segni invece era favorevole e per non separarci dal resto del movimento referendario di Segni di Ciccardini e degli altri in una parte di noi votò sì a quel referendum però quel referendum aboliva la preferenza unica ma non modificava sostanzialmente il sistema proporzionalistico e così siccome mi hai fatto venire in mente una cosa interessante cioè molto spesso si dice che questi argomenti secondo me lo dicono perché invece sono molto importanti sono argomenti tecnici che non interessano i cittadini si sente sempre dire la legge elettorale eccetera io invece rispetto anche a quello che tu stai dicendo credo che quel tipo di discorso di riforma a legge elettorale cioè anche di abrogazione della proporzionale e l'avvento di uno in nominale maggioritario insomma il sistema anglosassone americano che significa proporzionale votare la lista votare il partito invece l'unominale votare la persona fondamentalmente come come principio secondo te Gianfranco oggi 2020 questo dibattito esiste ancora tu non vedi come avverto io una forza reazionaria addirittura cioè addirittura dal mio punto di vista un ritorno alla proporzionale precedente al referendum tu senti quest'area politica oggi già c'è stata con il porcellum non è un suo caso che il suo autore l'abbia definito porcellum questa legge è una porcata le ho dito francamente l'ho sentito bene è una porcata l'ha scritta lei è una porcata quando uno fa una porcata e non se ne rende conto è un altro tipo di riscontri quando uno lo fa volutamente per mettere in difficoltà una destra una sinistra che devono fare i conti non rispetto alla loro gestione del potere ma rispetto al popolo che è quello che vota sono letteralmente una porcata la legge che riformò l'innominale con un falso maggioritario ma quella legge è proporzionale con un'unica correzione anzi due correzioni una verso l'alto che attribuisce alla coalizione vincente un premio di maggioranza e una verso il basso che stabilisce che per accedere al Parlamento bisogna superare un certo quorum e poi erano le liste bloccate e poi dietro quello ci sono le liste bloccate che da allora sono rimaste accettate da tutti i grandi partiti e naturalmente poi fanno comodo a tutti e fanno comodo anche ai piccoli partiti perché tu in questa maniera soprattutto a partiti quando devono fare coalizioni fra di loro in una stessa lista perché tu sai esattamente quanti ne possono reggere gli uni e quanti ne possono reggere gli altri purtroppo siamo questo processo di restaurazione si è già verificato ormai da vent'anni è stato voluto da Berlusconi questo per dire quanto i falsi quanto l'Italia si è piena di falsi rinnovatori l'incultura politica ma soprattutto secondo me la convinzione che in questa maniera i segretari dei partiti i leader politici possono determinare loro con la scelta e l'ordine degli elegibili il tipo di parlamento che hanno a disposizione ma insomma la restaurazione non deve avvenire è già avvenuta è avvenuta da vent'anni che ora si ritorna al proporzionale e si abolici anche il maggioritario è semplicemente la conclusione finale di questo processo e bisogna dire le cose come stanno la Costituzione che è nata nel 48 è stata un'ottima Costituzione dal punto di vista dell'affermazione dei diritti e del sistema politico generale è stata una pessima Costituzione dal punto di vista della stabilità e della governabilità del sistema politico italiano noi abbiamo tentato ad operare non solo attraverso il referendum ma anche attraverso una pressione sui partiti laici da una parte e sul partito comunista di allora dall'altra spingendoli spingendo i partiti laici a unificarsi o a raggiungere accordi fra di loro per esempio nel mi pare nell'87 noi proponemmo che si ai laici ai socialisti e agli ecologisti verdi di presentare candidati comuni al senato e sarebbe diventata immediatamente una vera e propria contrapposizione fra neofascisti e di estrema destra da una parte democraziani laici e comunisti sarebbero stati solo quattro candidati riuscimmo a realizzarlo in alcune regioni a cominciare dall'Alto Adige dove c'erano Boato e Langher che erano d'accordo con noi su questo ma nelle altre regioni poi ognuno preferì come al solito andare a perché purtroppo il guaio dell'Italia è che è difficile non esiste la cultura della disciplina repubblicana e quindi è più facile dividere e frazionarsi che unirsi intorno a grandi obiettivi di riforma politica e tu scusami oggi visto questo quadro che hai dipinto che ci dà anche il quadro di quell'anno del 1992 perché questi erano gli elementi di discussione in quell'anno proprio di tu anche del referendum che poi ci sarà il 18 aprile 1993 allora visto questa tua analisi tu oggi quale uscita politica trovi possibile per i riformatori visto che ormai la restaurazione è avvenuta ma guarda io credo che questo momento sia un momento di resistenza io non credo che si possa fare che ci siano margini per iniziative che possano perché non vedo gli interlocutori non vedono gli interlocutori non vedono il PD non lo trovo è inesistente dal punto di vista della politica delle riforme e naturalmente sono disponibili a dialogare con tutti e quindi anche con con il movimento 5 stelle però mi pare che siano lontani da qualsiasi idea di questo io credo che in questo momento di populismo sfrenato e di anti-europeismo di antifederalismo il problema oggi sia quello che ci siamo posti con più Europa nel 2018 di creare le basi di una resistenza però per creare le basi di una resistenza occorrerebbe avere una volontà molto rigida e molto forte e invece dobbiamo fare i conti ogni giorno anche al nostro interno anche al nostro interno di radicali con una spinta irreversibile al frazionismo alla divisione alla contrapposizione di piccoli interessi di botteghe allora io mi hai fatto venire in mente una cosa perché un po' forse quest'area di resistenza si respirava anche nel 92 cioè quando scoppia mani pulite pian piano cresce l'avanzata giudiziaria diciamo sui partiti storici effettivamente si percepisce chiaramente un po' un clima di necessaria resistenza ma allo stesso tempo soprattutto diciamo la possibilità di un'iniziativa politica che oggi manca per esempio vi ricordo che Radicali e Pannella proponevano il partito democratico lo proponevano anche ad occhetto e Martelli insieme a Pannella era proprio tra i promotori di questa trasformazione anche in vista del referendum e poi inevitabilmente diciamo c'era una resistenza anche per cercare di avviare quelle riforme che forse quel Parlamento avrebbe potuto fare il Parlamento ricordiamoci è eletto con le elezioni politiche del 5 aprile 92 forse sotto la pressione di questo cambiamento la necessità del Parlamento di assumersi delle responsabilità innovatrici e quindi il tentativo di dare una via d'uscita in quel caso da una situazione che però non c'è stata perché come ha detto spadaccia come ha ricordato i partiti da allora non si attivarono noi abbiamo avuto in quel 1992 due fatti nuovi che sono stati all'origine della crisi del 92 uno è il passaggio dal terrorismo rosso e nero dal terrorismo politico al terrorismo di mafia con le stragi di Capaci e quella di Borsellino che comincia che apre una nuova stagione la mafia pretende di ricattare il potere politico e dall'altra parte l'altro motivo l'altro motivo di crisi molto forte è Mani Pulite che viene condotta su basi reali ma che confiano alcuni aspetti secondari sui quali si 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 sviluppa l'intera indagine giudiziaria e trascura completamente i dati sottostanti reali molto più gravi che si sono intendo dire si colpiscono le tangenti che sono la sovrastruttura di un intreccio perverso i poteri politici industriali e industriali che aboliscono praticamente in Italia e cancellano le regole degli appalti pubblici e della concorrenza nel mercato delle infrastrutture su questo non c'è stata nessuna indagine di mani pulite ed è il vero motivo poi della mia critica a mani pulite cioè si colpiscono alcuni aspetti della corruzione ma soprattutto si indirizzano le indagini su questi aspetti per colpire alcuni partiti e salvarne altri che invece erano partecipi della parte strutturale della corruzione cioè quella che riguardava la grande ripartizione degli appalti pubblici le coop rosse partecipano a tutti gli appalti in tutte le regioni con percentuali varianti dal 15 al 25 però il 92 è stato oltre a un anno di crisi anche un anno di grandi opportunità perché il voto del la raccolta delle firme sul referendum e il fatto che i referendum questa volta siano la cittadina e la corte costituzionale offrono al Parlamento e al sistema politico delle possibilità di riforme noi segni pochi altri hanno dato al sistema politico questa opportunità non è stata raccolta dalle classi dirigenti comunista socialista e democraziana e siamo arrivati alla distruzione del vecchio sistema del sistema politico quella occasione quella opportunità è stata persa e ancora oggi ne paghiamo le conseguenze io a tal proposito mi volevo agganciare a quanto sta dicendo Gianfranco specificando una cosa che il partito radicale fu l'unico partito che non venne colpito in nessun modo da queste indagini di mani pulite di tangentopoli tant'è vero che quando intervistarono Cusani riguardo alla tangente Enimont la famosa Cusani disse tutti i partiti furono impiegati in quel sistema in un certo qual modo e allora il giornalista gli chiede anche il movimento sociale e Cusani rispose tutti i partiti tranne i radicali allora mi domanda spadaccio come mai visto la situazione diciamo che distruggeva i partiti storici come mai la partitocrazia è sopravvissuta la distruzione dei partiti storici ci hanno buttato via i partiti ma la partitocrazia è sopravvissuta benissimo e i radicali che erano fuori da quel tipo di logica di corruzione anzi l'avevano da sempre denunciata la partitocrazia come mai mi dispiace dirlo ma uno dei principali responsabili di questo è stato Occhetto e in genere la classe dirigente comunista di allora con la quale dialogammo dialogammo a lungo e che dialogarono con noi sulla riforma del sistema politico Occhetto fu il primo dei grandi partiti ad aderire al referendum radicale su sull'innominale che è invitare a votare sia l'abrogazione che il proporzionale però a un certo punto con mani pulite c'è un cambiamento perverso della situazione politica italiana il partito comunista sceglie di seguire la via giudiziaria quella che gli appare come la via giudiziaria al socialismo si affida ai giudici si affida a mani pulite si affida al moralismo e non invece che affidarsi alla moralizzazione e alla riforma del sistema politico sceglie i giustizialisti di allora che facevano capo al sindaco di Palermo Leo Luca Orlando predecessore di del politico non più giudice ma del politico del giudice diventato politico di Pietro che diventerà politico ministro e capo partito ma da allora c'è questa ricorrente tentazione della via giudiziaria al socialismo che poi naturalmente travolgerà anche il PD perché alla fine poi le cose si ritorcono contro e questa cosa e questa scorciatoia questa ricerca della scorciatoia giudiziaria ha allontanato il PC dal dovere che aveva di perseguire la strada delle riforme e infatti ti volevo chiedere tra l'altro ricordiamo anche degli spettatori tu sei stato tra i protagonisti forse tra i primi anche detto in partito radicale ad abbracciare e a suggerire la battaglia per Enzo Tortora quindi io mi ricordo anche se ero giovanissimo che tu su quella battaglia eri in prima fila allora nel 92 il tema della giustizia viene colpito in vari modi uccidono il magistrato Falcone e Paolo Borsellino e quindi un colpo alla giustizia che aveva messo su il maxiprocesso negli anni 80 contro tutti i boss di Cosa Nostra eccetera e quindi alla giustizia che faceva del rispetto del diritto dello stato di diritto l'elemento per sconfiggere la criminalità e poi la giustizia che arriva al nodo invece con ovviamente diciamo il processo al palazzo l'avrebbe chiamato così Pierpaolo Pasolini il processo al palazzo e con una serie di ombre che rimangono sia nel caso di Tocco sia poi nel 92 che sono ombre che sono presenti ancora oggi basti vedere le intercettazioni che riguardano Palamara il funzionamento del CSM tu stesso hai parlato spesso della riforma del CSM allora sul tema giustizia nel 92 quel nodo perché non è stato sciolto e perché oggi vediamo una situazione che forse è peggiore di quella che avevamo conosciuto con Tortora guarda io credo che il problema centrale si si individua proprio andando a leggere le indagini di Mani Pulite per molti mesi fu arrestato un dirigente un altro dirigente dell'Italstat che era la grande impresa pubblica delle opere pubbliche delle infrastrutture in Italia diretta dal boiardo di Stato Bernabéi ex Magna Parse dirigente della RAI che era arrivata a fatturare durante la gestione Bernabéi fino a 6.000 miliardi di lire delle vecchie lire italiane Zamorani ai giudici di Milano racconta per filo e per segno tutti gli intrecci fra imprenditoria e mondo politico di governo e di opposizione loro hanno tutti gli elementi per procedere per la turbativa per i reati di associazione per delinquere che coinvolgono la Fiat la Vianini i grandi le grandi opere le inchiure le coppe rosse e quindi indirettamente o direttamente la democrazia cristiana il partito socialista il partito comunista e invece non procedono si limitano semplicemente a colpire le tangenti che riguardano soltanto alcuni partiti alcuni correnti di partiti perché procedere su questo significa investire l'intero sistema giudiziario italiano e delegare ad altre procure le indagini su queste cose però non aver proceduto su quello ha aperto ha lasciato aperto il sistema della corruzione soltanto con un cambiamento i protagonisti della corruzione non sono più i partiti politici al centro di quel sistema di tazione che era il finanziamento illecito perché bisogna chiarirsi su questo allora io vorrei ricordare che quando Craxi disse tutti che alzi la mano chi non è stato partecipe di questo sistema politico di finanziamento illecito l'unico a alzare la mano Pupanella il quale disse a Craxi accetta di essere arrestato fai votare i tuoi per il tuo arresto affronta il carcere e affronta il processo perché attraverso di questo arriveremo alla verità Craxi non era radicale non si sentì di farlo temeva per la sua salute soffriva di diabete in maniera molto forte ma soprattutto temeva per la sua vita cioè temeva di far la vita la fine che hanno fatto altri in carcere e non lo fece e andò all'estero e la verità non si è mai raggiunta perché non c'è mai stato il protagonista dall'interno del sistema che avesse il coraggio di gettare fino in fondo i fasci di luce che erano necessari a gettare sull'intero sviluppo di responsabilità che coinvolgevano quella corruzione politica per cui abbiamo avuto la crisi dei partiti e abbiamo avuto una partitocrazia che è sopravvissuta ai partiti e quelli che si sono proposti come antagonisti alternativi ai partiti hanno finito per per condividere basta pensare alla Lega nasce come protagonista dell'alternativa la Roma ladrona e finisce per essere la Lega ladrona quella di Bossi e quella dei suoi dei suoi amministratori e tesorieri basta pensare allo stesso Di Pietro e a alcuni personaggi che ha imbarcato del vecchio sistema politico nella sua Italia di valori e via discorrendo e questo è tutto purtroppo facciamo i conti con questo fallimento che si trascina fino ad oggi e che ha ripercussioni gravissime su una società che è rimasta per questo bloccata perché è una società che da 30 anni non riesce a fare nessuna riforma la Germania di Schroeder all'inizio del 2000 era in una situazione peggiore dell'Italia Schroeder ha avuto il coraggio di fare di affrontare alcune verità di fare alcune riforme e oggi la Germania è il primo paese europeo il più forte paese europeo certo Schroeder ha pagato il prezzo di quelle riforme però ha avuto il coraggio di farle da noi ormai quando c'è una crisi la si affida a un governo tecnico il governo Mochi i governi Dini i governi Monti e via discorrendo gli ultimi governi politici che hanno affrontato grandi crisi economiche in cui i presidenti del consiglio di non la faccia sono stati il governo Craxi con la lotta a scala mobile cui purtroppo non è seguito perché non ha avuto la forza di farla la lotta al debito pubblico e l'altro è poi il governo Amato che ha posto ripetito una situazione che aveva ereditato e era di proporzioni infatti ti volevo chiedere già siccome quel governo Amato l'undicesima legislatura è uno dei governi più bistrattati dai giornalisti più criticato dalle forze politiche ogni volta che si parla di quel governo se ne parla per parlarne male in tutti i sensi anche per le misure economiche intraprese o comunque delle forzature e tu invece diciamo all'epoca nel 92 anche se non eri in Parlamento e oggi che idea avevi e hai di quel governo di Giuliano Amato è stato l'ultimo governo politico a avere il coraggio di metterci la faccia nell'affrontare la crisi economica che si era determinata poi dopo d'allora è sempre stata delegata ad altri Berlusconi e Berlusconi Scalfaro l'hanno delegato al governo Dini più avanti l'ADC sì l'ADC il Berlusconi e il PD e Bersani appoggiarono detterono in carico a Monti Monti e Dini hanno pagato le conseguenze ma il giorno dopo è facile criticare il giorno dopo in realtà Amato ha avuto il coraggio di guardare in faccia la realtà e di porre rimedio nell'unico modo possibile una crisi che sarebbe stata devastante e avrebbe portato al default e che era quella di poi naturalmente qui entreremo in tutti i meccanismi della situazione economica prima l'inflazione poi il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro poi l'incapacità di affrontare i problemi del debito pubblico e di ridurre la spesa noi dal 1992 siamo al terzo decennio in cui l'Italia è ferma ed è bloccata dalla mancanza di riforme e dal debito pubblico Gianfranco tu prima hai citato la Costituzione distinguendo la parte sostanzialmente quella dei dei diritti dal resto che riguarda l'organizzazione dello Stato ecco tu pensi che una iniziativa riformatrice sia compatibile oggi con l'assetto costituzionale attuale siamo diciamo più o meno nella memoria fresca più o meno della insomma cosa abbastanza recente del tentativo di riforma di Renzi che è andato come è andato ecco ma oggi qualcuno che si ponesse veramente con le intenzioni di riformare potrebbe prescindere da una riforma costituzionale io credo di no però io credo che si arriviamo in un periodo tale che come ho detto prima queste cose possono essere affermate ma senza tra l'illusione cioè non siamo nel 92 in cui c'era una crisi ma c'era anche l'opportunità di uscirne attraverso la riforma oggi purtroppo a destra e a sinistra abbiamo degli elementi di conservazione del sistema attuale che può essere riassunto l'ho definito prima con la situazione paradossale di una partitocrazia senza avere partiti e soprattutto senza intermediazione politica fra cittadini è stata e quindi credo c'è un bel libro di Rutelli gli immediati gli immediati sono quelli che pensano che la politica si risolva con la pacchetta magica cioè formulando un obiettivo e l'obiettivo si realizza automaticamente non sanno che perché un obiettivo di riforma si realizzi occorrono anni di progetto politico e anni di lotta politica per realizzarlo continuità stabilità anche nel perseguirlo e nel portarlo avanti e nel realizzarlo senza di che non c'è riforma e andiamo avanti col sistema attuale che è consuma se stesso noi stiamo consumando da 30 anni la ricchezza che abbiamo creato dagli anni 50 all'inizio degli anni 90 basti pensare ma scusate tanto il governo Monti fu il primo a nominare Biondi mi pare che si chiamava il primo ministro per la riconversione delle spese per la come si chiamava la riconversione della spese pubblica della spesa improduttiva a fare a monitorare le spese improduttive e sciogliere le società pubbliche inutili locali regionali nazionali poi è stato poi Letta e Renzi nominarono altri e altri sempre con lo stesso con lo stesso scopo di riformare di eliminare queste spese improduttive avete mai visto un governo che elimini una spesa che sciolga una società inutile un ente no non c'è quindi ci sono delle cose che si proclamano ma poi non vengono effettuate perché effettuarle comporta dei costi politici significa giudere un ente significa anche avere il coraggio di licenziare delle persone e questo licenziare delle persone che adempiono impieghi improduttivi è un fatto positivo perché significa indirizzare spostare delle risorse improduttive verso impieghi produttivi ma non c'è nessuno che ha coraggio di farlo dobbiamo fare i conti con questo se tu dovessi oggi in questo momento rivolgerti ai ragazzi agli studenti misciali agli universitari rispetto alla situazione che viviamo e rispetto al futuro che appartiene soprattutto a loro qual è diciamo la lezione che possiamo apprendere da quelle situazioni di cui tu hai parlato e che ci possono essere utili per diciamo consegnare anche ai giovani ragazzi agli studenti un messaggio che possa essere di costruzione del futuro perché abbiamo davanti sempre gli istruttori no? Abbiamo i rottamatori abbiamo quelli che arrivano con le ruspe quelli che aprono il Parlamento con una scatola di sardine eccetera mancano i costruttori secondo te qual è il messaggio che possiamo dare agli studenti costruttivo rispetto a un futuro che oggi appare ancora più diciamo annebbiato e incerto del passato? Non vi fidate di quelli che fanno promesse perché tutti o di quelli che aumentano la spesa pubblica con facilità per avere il consenso degli elettori ne siete le prime vittime perché siccome contate poco non fate parte ancora del sistema produttivo siete quelli che sono più penalizzati in termini di scuola di riforma della scuola ma anche in termini di possibilità di lavoro future e quindi state attenti a quello che sta succedendo alla ricerca del consenso che naturalmente si rivolge ai pensionati che sono una grande riserva di voto clientelare per i partiti per le forze politiche noi siamo una piccola forza politica più Europa però abbiamo giovani costituenti ricostituenti è una piccola iniziativa che abbiamo preso in cui riponiamo al centro proprio i giovani come possibilità come forza potenziale unica forza potenziale di riforma anche perché sono i più colpiti dalla mancanza di riforma e Paola confiderei a te la chiusura sì oggi tutto ringrazio te Gianni per questa grande opportunità e soprattutto Gianfranco Spadaccia che spero che il pubblico liberi tutto tv possa apprezzare per l'autorevolezza della personalità di Gianfranco la sua storia adesso non mi farà rossire non mi farà rossire io penso che sia importante che diciamo anche gli studenti o i ragazzi di oggi sono un vecchio signore che non rinuncia a 85 anni a pensare con la propria testa esatto e questo penso che sia un messaggio da dare agli studenti che magari non ti conoscono perché insomma non hanno avuto possibilità di vederti in tv o sul web oggi ce l'hanno e ne hai fatto venire in mente tu stesso la strage di Capace a un certo punto quando hai accennato a Falcone e io mi ricordo proprio per tornare a 1992 che diciamo le radio in quel momento mandavano già una canzone degli 883 che probabilmente sono una canzone conosciuta ancora dai ragazzi di oggi che si intitolava hanno ucciso la Moragno che era una canzone che era stata scritta prima per altre ragioni ebbene io mi ricordo io nel 92 avevo 19 anni che dopo l'attentato la strage di Capaci quella canzone hanno ucciso la Moragno acquistò un significato diverso cioè per noi prima la morte di Falcone poi la morte di Paolo Borsellino rappresentò proprio la morte dell'uomo ragno cioè come simbolo della giustizia io in quel momento ero al primo anno di università mi accingevo a fare il mio primo esame universitario ho avuto la sensazione lì c'era il sveglio della coscienza che avessero ucciso la giustizia in Italia che le speranze che c'erano state dal caso Torto erano i tentativi di cambiare la giustizia per una giustizia giusta fosse stata uccisa come avrebbero potuto uccidere dei sogni di ragazzi adolescenti che leggevano l'uomo ragno come se avessero ucciso Spider-Man questo però apre un capitolo questo apre un capitolo completamente diverso che richiede un dibattito lo faremo lo faremo lo faremo giusto una domanda tu quelle sono occasioni che ognuno ricorda tu dove ti trovavi quando c'è fu la strage di Capaci quando morì Falcone ti ricordi? guardate stavo mi dispiace dirlo ero appena arrivato in Val d'Agosta per una breve vacanza con mia moglie io non facevo più parte del Parlamento quindi non avevo il problema di direzione del capo dello Stato leggivo queste cose attraverso i giornali e arrivato in Val d'Agosta aprì il televisore e ebbi questa tragica notizia della morte di di Falcone di sua moglie e degli altri tre e dei tre agenti della scorsa tre mi pare che fossero tre tre e qual è la prima cosa che hai pensato appena hai sentito la notizia sai c'era stata in precedenza mi pare l'omicidio di di Lima sì ed era il punto di passaggio molto chiaro cioè evidentemente da quando il governo Andreotti aveva cominciato a fare le leggi contro la mafia e aveva creato una svolta legislativa piuttosto pesante nei confronti della mafia evidentemente la mafia ha reagito rompendo un rapporto di connivenza o di tacito convivenza con lo Stato che ci in quel momento c'era stato questo quindi era stato un avvertimento naturalmente poi dopo il maxiprocesso aveva decapitato la cupola mafiosa palermetana che faceva capo al papa greco e aveva determinato e aveva consolidato il nuovo la nuova leadership della mafia che era quella dei corleonesi e di Riina e beh naturalmente i corleonesi da quel momento hanno impresso alla loro attività mafiosa una impronta chiaramente terroristica adottando gli stessi sistemi delle brigate rosse con di più un tentativo di intimidire l'opinione pubblica perché accanto alla strage di Capaci e all'uccisione di Borsellino ci sono state poi il tentativo di ammazzare Costanzo a Roma e il tentativo di sparare nel mucchio di terrorizzare la popolazione con le bomba di Firenze e già fratto allora scusami facciamo così visto che il tempo a nostra disposizione è terminato e ci lasciamo con una promessa siccome a luglio ricorre l'anniversario della strage di Via D'Amelio e quindi l'assassinio di Paolo Borsellino e degli uomini della sport anche se tu vuoi e sei disponibile mi piacerebbe riprendere questo discorso e continuarlo diciamo a ridosso di quell'anniversario in maniera da approfondire meglio questo aspetto del 92 che abbiamo trascurato e che forse merita più tempo quindi se tu sei d'accordo e dalla tua disponibilità a luglio facciamo un'altra conversazione e ripartiamo proprio da qui da dove ci siamo interrotti oggi va bene? a Colacione non saprei dire di no quindi grazie grazie perfetto allora possiamo chiudere qui io ringrazio i partecipanti ringrazio per Paolo Segneri e ovviamente Gianfranco Spadaccia è stato un piacere rivederlo era tanto tempo che non ci vedevamo e ci siamo rivisti grazie a questi strumenti digitali che hanno avuto parecchia importanza sono stati protagonisti della nostra vita in questi ultimi giorni con questi mesi di lockdown per il coronavirus grazie ancora seguite LibriTV e al prossimo a questo punto appuntamento grazie grazie a voi grazie a tutti 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 grazie a tutti